ecco qui siamo in località malga alta di pelizzano una delle poche malghe aperte anche durante il periodo estivo cioè solo durante il periodo estivo avete sullo sfondo il gruppo dell'ortless la val di peio e le montagne che dividono la val di rabbi dalla val di sole qui siamo a quota 1500 circa questa che vedete è proprio il caseificio è una sorta di rifugio dove d'estate vengono serviti dei piatti tipici locali dove si può acquistare il formaggio e si può sostare su delle banchine e all'esterno dell'edificio stesso